Grazie Presidente. Tanto mi consenta di rispondere, spero una volta per tutte, a quella che è stata una lettura reiterata fino a diventare sport condiviso da molti colleghi, cioè l'idea che noi oggi ci rimangiamo una proposta che veniva fatta su una proposta di legge che aveva come primo firmatario il vice segretario del mio partito. Quella proposta prevedeva come elemento fondante ricusazione per chi non dà garanzie di trasparenza e funzionamento nel momento della presentazione delle liste. Questa proposta contiene ricusazione se non per un dato formale o di registro giuridico, ma per un dato sostanziale i requisiti minimi di trasparenza non sono contemplati. La si può raccontare, narrare, scherzarci anche sopra, esprimere solidarietà, ma c'è grande coerenza rispetto ad un lavoro che i deputati prima in Commissione e poi in quest'Aula fanno, cioè di verifica, di fattibilità, di riscontro di costituzionalità rispetto agli obiettivi che ci sono dati e che possono essere aggiunti con lo strumento legislativo. In questo emendamento cosa si propone? Perché bisogna leggere la sostanza oltre che la forma della proposta. Siamo all'articolo 2 dove si descrivono i requisiti degli iscritti ai partiti, si fa riferimento agli organi di garanzia e correttamente il collega Quaranta dice, ma se non sono fatte salve, lo voglio leggere in maniera puntuale, le condizioni che assicurano terzietà e imparzialità degli organi di garanzia. Presidente, noi non stiamo scherzando, stiamo facendo una legge che va in capo ad una Commissione che ha l'onere di verificare che i requisiti degli statuti siano realmente soddisfatti. A tal punto che i partiti si stanno vedendo in questi mesi quella Commissione che chiede integrazioni, che chiede delucidazioni, chiede di fornire spiegazioni e che produce modifiche statutarie, tanto il lavoro è serio. Mi dite come si fanno a riscontrare le condizioni che assicurano terzietà di un organo di garanzia? È il requisito di chi lo compone? È il curriculum vitae del probiviro o del garante? Qual è il punto vero? Che giustamente, e io davvero con loro sono solidale, molti partiti e ci sono dei colleghi che ne hanno fatto parte, non rispettano oggi questi requisiti. Ci sono colleghi di questa Camera espulsi da un partito senza motivazione, senza argomentazione, da un organismo che non esiste o addirittura via mail. Però, Presidente, c'è un problema che non riguarda l'articolo 49 o la portata di questo provvedimento. È della qualità della vita democratica e della qualità delle forze politiche che attraversano la vita del Paese e non si risolve tutto con la norma. In quest'Aula, proprio lei e io ne approfitto anche per ringraziarla, qualche settimana fa è stato presentato un bel libro che è la bibliografia di Beniamino Andreatta, che tanto si è occupato di questi temi, che io ho avuto il piacere, insomma, di accompagnare questo lavoro con le letture di questa pubblicazione qui da lei presentata. C'è un punto nel quale Andreatta ci ricorda. I partiti politici sono difficilmente governabili e sanzionabili per le loro inadempienze, ma ogni cinque anni si presentano alle elezioni. Ecco, c'è un richiamo molto forte che si possono tentare di fare provvedimenti normativi che impediscono cacciate improprie, ma poi c'è la denuncia e l'azione politica e la coerenza con la quale ognuno di noi interpreta il proprio impegno, che porta ad una denuncia sostanziale, non solo ad un cambio dello strumento normativo.